Oggi siamo in classificata con Yari976, saluto Yari Ciao Che cazzo fa Yari? Vado io dai C'ho voglia di ballare Comunque raga siamo in classificata Fai il serio se avevo detto Sì E' un'enemica Porca puttana No ho sbagliato Aspetta tu li hai visto qui E lo sposto e lo metto lì sulla trappa Chi'è che sta provando lo sponchi? Tanto muore guarda Grande Questi qua sono bravini secondo me E anche secondo me Viara che sono abbastanza bravi Ho sentito urlare Come cazzo stanno muorendo questi? Vabbè No 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 Non ci posso No raga Non è che mi devo mettere upline L'ultimo nemico Merda Ho sparato in testa No No Aspetta Gli faccio far full team Scusa X-Men Tutti sei fatti E' fuori Tanto se lo fa Gli faccio far full team A sto punto Scusa Guarda che muore Ti immagini E' là E' là davanti a te Da dove mi ho più Ok grande bro Te l'ho fatto fare Era un babbo di minchia Era un babbo di minchia questo qua Non so come Praticamente io stavo correndo Ad un certo punto Mi ho Oddio Ho sparato Oddio Fai full team Dai bello Ah minchia Pensavo che l'hai ricrosciato T'ho detto Porco dio Ah ecco cosa succede quando crash Sì questo succede Ogni giorno Perché tu crashi ogni giorno Sì Sì ma non dici una volta Due o tre volte al giorno Sì sì Io non so se andare a cantare Credi la strada Quando accendo Devo fare prima una libera Per vedere se crashi E per forza Inizio la classifica Così che funziona La mia connessione La connessione di mer Allora mi scuscomo Sono un po' babbino Un po' Beh tanto Non mi rompe il drone 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 Raggiungete la posizione Devo fare prima Che cosa è tutto? Eh finca scusate Tornate a occuparvi Sto pushando seriamente Questo Eh no Caveira Che cazzo Che posso fare con Caveira Eh beh la salvo C'è Caveira Sto per uccidere Che X-Man Pusha come non so cosa C'è questo video Dura manco dieci minuti Questo qua è bravo Che mi prendo Iari L'esnero ancora Va bene L'esnero Ah Yuri è arrivato online Però Tra un po' Andiamo al donatorio Andiamo verso le 4 e mezza Anch'io Ah si dai Figa cazzo Tu me frega A me piace un botto L'arma di Di Legend Di Legend Eh si E' forte Quanto era scontato? Non killarlo Non killarlo Stai fermo No 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 C'ho voglia di mettere le cose qua Quindi mettono le cose qua Tanto era partito di merda Ciao drone Come ti chiami? Siamo a dieci secondi Eh Hai visto come l'ho preso il drone? Mancano cinque secondi Eh salvo Eh? Ma se metto Prima l'arma Prima la cosa di Frost E poi Poi lo stesso Poi lo stesso Non cambia niente Ah ok Preparo il filo stinato Cosa fai? Ma perché? Non lo so Un po' cosa accade Gnari mi sa che è l'ora di cambiare joystick Lo so Ah perché spot Quando non le cambi valcare Non si spot Ah questo Visto Visto cosa succede Motivo Come Lanciata No ci ho provato No No Ying no Ying no Che cazzo Ah Ci sarai lanciato qui Ti ho paura che mi vengano da dietro Sono perennamente spottati questi Cosa? L'ho preso in testa Hai visto pure te Salvo No Stavo guardando Non ho le cam Missione fallita Eh perché ci sei anche là di figa Comunque questo qua è Un cazzo Se dice Team italiano Contro? Sì 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 raga Antone GKan Totalizzo No Mi sa che Non lo so Sono raga italiano Che che si era preso blitz Ah io Io push subito con Arf No io Io ti baggo un attimo a quelli Tanti Bana e Ash Ma la sorella di Bana chi è? Non ce l'ha Ying? Non ce l'ha Ah Madonna puttana Trovate il contenitore di Bana C'è mai Ela una sorella Che è Zofia Beh Not Pulse Pulse Ben fatto Ho trovato No Ne ho fatto la bocca Beh che cercherò Di saltare Qua sopra Ah perché Prima si saltava qui E poi saltavi lì Bella zia Oh l'ultimo è Kapkan Ancora cinque secondi Perché Kapkan? Non lo so Raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo Secondo me io muoio di sponchi Niente Ok non mi chiedo Minchia c'è rotta la camera Eh è la prima cosa che si rompe Iari Eh lo so Stavo guardando se c'era ancora Attenti raga Minchia Attento Oddio quanto cazzo faccio schifo Ragazzi di merda Da dove? Attività nemica Tornate a occuparvi Vediamo dall'altra parte No dove è Doc? No c'è Doc C'è Doc C'è Doc Bello Oh che palle Avremmo già vinto Non sto facendo niente sta partita Ah perché io si Mi solito faccio 20 kill Perché io sto facendo qualcosa Eh una kill Il tuo solito scusa Mi sembra vado a far culo a tutti e uccidere full team con Frost Tu full team ma vai cagare No l'altra volta con Frost l'ho fatto Con un mio amico che si chiama Samrox Però eravamo rimasti uno verso cinque Prendo l'arma di Frost e va a far con lui e l'ho ucciso Lo so che è Sam che gioca anche con ste Sì Eh sì quello là Difendete la stanza Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Non killare nessuno va Bra ma se metto un altro di joystick Dopo No vi vedi ci vedi ci vedi ci vedi te Aspetta magari con l'altro Vi riesco anche a fare meglio Ma per spegnere il joystick Cosa bisogna fare? No è un casino Dopo dovrei aprire Perché Caveira ha così poca vita? Perché è coglione A chi è che ha sparato Caveira? A nessuno No io no Forse per distruzione del drone L'ho sparato Caveira Capito? Bella No Altro che bella Brutta Bicco trovato Cazzo caricatore Ganata in Bicco trovato Zofia che mi spara E' Ying che mi lancia le bombe Porco dio Non è che ci si può fuori molto Ying di merda Zofia da lì Bella Figlio di puttana Madonna troia Non mi spara il joystick Ieri stavo premendo da mezz'ora il joystick E' vero è vero No ho visto anch'io Che tu hai provato a sparare Ma che vera che cazzo sta facendo Sto dipendendo il contenitore di Bion Gini di merda dentro a sinistra Morto Ma che pippa è Caveira Ma scusa ma l'altro Noi ne erano due Sono morto Oddio 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 E noi stiamo perdendo Abbiamo perso questo round contro di questi Queste pippe di merda Sì ma non mi sparava il joystick Ma è stato rotto il cazzo Ma faccio full team Ti prendo Twitch o IQ Eh? Prendo Twitch o IQ Decidi tu No col cecchino ce l'ho Per fare il coglione è libera Per fare il coglione impersonalizzata E anche è libera Beh tanto ci sono io che faccio full team Non ti preoccupare salvo Si l'avevi dato pure prima Non è vero Prima non l'ho detto Ho detto Si l'hai detto L'hai detto all'inizio del round L'hai detto Ben fatto Contenitore di Bionis che ho trovato Perché stanno su questi? Perché sono coglioni O perché si vogliono al camperare Non so manco io come No perché hanno visto che giù Ho perso due volte Allora 10 secondi all'inserimento E allora anche perché Dio è fatto Contenitore di Bionis che individuato Raggiungetelo No t'acchanca Te l'ho detto che si volevano Ragazzi Sono camperato Non so manco io come Non so manco io come La ricognizione Tornate a occuparvi Deco La minaccia Tenete il contenitore Neutralizzate la minaccia Che vera cazzo Di merda Di dio porco Che smirata figa Che merda che sono E chi è primo Iari 976 Si Al contrario Però no Questa significa Ah si Eh no Ero girato al controllo Scusa Ah ok Perfetto Allora si spiega tutto Bella ragazzi Questo video finisce qui Vedete quanto è scarso Iari in questo video Bella ragazzi Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Grazie.